Vangelo di domenica 28 novembre 2021, Luca 21, 25, 38, 34, 36. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli, infatti, saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo perché la vostra liberazione è vicina. State attenti a voi stessi che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita e che quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso. Come un laccio, infatti, esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Parola del Signore Comincia un nuovo anno liturgico, un nuovo cammino di preghiera della Chiesa e lo riprendiamo con un nuovo maestro che è San Luca. Questo cammino che riprende non è semplicemente un ciclo, ma è un nuovo inizio. È un ritornare, ma non sugli stessi passi, ma più in profondità, ma ancora più arricchiti di esperienza per aprirci a messaggi anche nuovi e inediti se il nostro cuore è nuovo. Luca è il caromedico, come lo chiama San Paolo, suo compagno di viaggio, suo compagno di avventure nell'evangelizzazione e naturalmente un autore importantissimo del Nuovo Testamento che ci ha lasciato due testi da leggere insieme, due volumi di un'unica opera, il suo Vangelo e gli Atti degli Apostoli. Il racconto di come la parola di Dio prima si è fatta carne in Gesù e poi, come dice appunto Luca, ha corso, la corsa della parola per tutto il mondo allora conosciuto, che era l'impero romano, fino ad arrivare al cuore, cioè a Roma, luogo in cui si concludono gli Atti degli Apostoli. Luca ha tante cose da dirci, ma il Vangelo di oggi comincia già proprio nel cuore del Vangelo con un brano del discorso apocalittico, che non vuol dire catastrofico, ma vuol dire, per il Nuovo Testamento, rivelativo, ecco un brano del discorso apocalittico di Gesù. Anche Gesù usava questo genere letterario che tutti comprendevano al tempo, un genere certo pieno di simboli anche appunto catastrofici, come si ascolta nel Vangelo di oggi, le stelle che cadono, il fragore del mare, i popoli che in ansia, che muoiono dalla paura. Ecco, ma non dobbiamo prendere questo come una descrizione realistica, ma come la cornice, diciamo così, simbolica di questo mondo nuovo che irrompe nella storia. È il Regno di Dio, o meglio, è la venuta del Figlio dell'uomo, come si autodefinisce Gesù, prendendo questa espressione dal profeta Daniele, che l'aveva usata per indicare il Messia escatologico, cioè finale definitivo, che arriva per ultimo letteralmente, l'inviato di Dio definitivo. È venuto una prima volta, e lo celebreremo fra un mese, nell'umiltà della carne di un neonato, dentro una grotta oscura, in cui si è accorto quasi nessuno, ma quando tornerà, tornerà nella gloria, tornerà nella luce di un giudice glorioso, un giudice che farà la verità sulla nostra vita. Non il giudice pronto a condannarti, ma il salvatore che ti salva però nella verità. Infatti dice il Vangelo, quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo. La vostra liberazione è vicina. Il Vangelo è un'esperienza di liberazione. È liberante, altrimenti non è Vangelo. È la libertà che viene da Dio e che ti libera perfino da te stesso, perfino dalla preoccupazione per te, e ti fa diventare un uomo, una persona autentica. Che cosa ci è richiesto? Ci è richiesto di vegliare, stare svegli, di non lasciarci rapire il cuore dalle cose, dalle preoccupazioni, dalle ansie della vita, ma di essere invece attenti appunto a quei germogli del mondo nuovo, a quelle venute del Signore nella nostra storia, ora nascoste, ora simboliche, ma che sono reali. Se noi lo accoglieremo fin da ora, non avremo nessuna paura quando tornerà e ci chiederà di abbracciarlo in un abbraccio senza fine. e ci chiederemo fin da ora,